sotto a porta show speciale calciomercato sesto appuntamento sempre in compagnia vostra e in compagnia del sottoscritto raffaele russomando che vi parla e anche in compagnia dell'amico diego rinaldi ciao diego ben ritrovato ciao raffaele ciao a tutti gli amici che ci seguono come va tutto bene tutto a posto tutto bene allora ragazzi vi abbiamo annunciato sui nostri canali social che oggi è davvero un puntatone per chi ci ha seguito sui social non sarà di certo sfuggito il dettaglio perché oggi abbiamo un duo napolegno carico a pallettoni e ne parliamo appunto con francesco bevacqua ciao francesco angelo angelotti ciao angelo eccolo come va tutto bene senti cerchiamo di migliorarlo un pochettino ora lo senti meglio francesco ci sei perfetto angelo tu lo senti meglio ok perfetto perfetto allora ragazzi allora partiamo per ordine chi comincia dei due chi fa il cavaliere ha perfetto e subito d'accordo no ma allora in partiamo noi di regia dai angelo comincia tu e la domanda la faccio fare a diego dai cosa cominciamo e cosa cominciamo con con la telenovela i carvi magari su questo voglio chiedere subito un parere d'angelo e diciamo la notizia dell'ultima ora che vede car di ormai quasi di innovare con l'inter spiazza un pochino tutti e mette anche un pochino in difficoltà il napoli a quanto vido questa cosa che si tratta di una manovra di depistaggio oppure è chiaro che questo avrà trovato un accordo e il napoli sarà servito sicuramente per chiedere un rinnovo più sostanzioso a questo punto e noi ci ritroviamo con il solito cerito in mano oppure con il solito cipriolo in mano no speriamo di no altra destinazione perché io a questo punto non lo so faremo la champions con questo ragazzo polacco per carità che sarà un iranino però insomma di casi sarebbe stato quello che non ci ci avrebbe fatto dimenticare i guai ma però insomma sarebbe stato un ottimo placebo ecco per pervenire certi dolori di pancia certo questa secondria cosmica che ci ha fatto i casi probabilmente non verranno ce ne faremo una ragione in tal caso ma francesco tu che ne pensi? diciamo che oggi sono rimasto colpito di diciamo da questo tweet di ricardi anche perché l'ho letto in diretta perché ero per lavoro sul twitter sul profilo della mia azienda e ho trovato il tweet di ricardi tra le ultime quindi mi sono rimasto colpito e ho subito pensato ecco la hanno trovato l'accordo per il rinnovo e noi ce lo vediamo un po' il posto insomma perché è chiaro che ci sia ci sia stato un passo di ricardi verso i bolosi nerazzurri che per carità avranno trovato dei soldi da investire perché comunque hanno pensato che andreva comunque hanno trovato sicuramente un accordo per i ricardi mentre noi stiamo lì appunto con il cerino in mano e mi dispiace che siamo stati trattati veramente come l'ultima ruota del carro ecco la notte insomma questo non mi pone a favore comunque dell'operato della società in questa versione vero vero purtroppo non va bene i giorni passano ed è saltato l'obiettivo che avrebbe fatto felici non dico felici ma comunque avrebbe fatto dimenticare più facilmente Iguain sicuramente con tutto quello che volete ma è una giocatore che abbiamo mostrato ed è fortissimo e avrebbe fatto al caso nostro magari non a quelle cifre ma sicuramente al caso nostro questo è poco ma sicuro anche perché vedendo la prova di gabbiadini di ieri non so se siete d'accordo il napoli quindi necessita il napoli di un ulteriore punta no sei d'accordo e dico il napoli a questo punto ecco visto che sei d'accordo con me sulla che era il gabbiadini ha bisogno di un'altra punta ma assolutamente sì a mio occhio di non voler credere cioè io avevo letto la notizia e noi abbiamo pagato su Milik, Malik, Melik 30 milioni di euro no ragazzi 35 35 c'era questa notizia 30 più 5 di bonus io mi auguro che i figli del precedente chiedano intervenzione per l'impare perché pagare 335 minuti di euro questa scommessa c'è veramente questo è successo ma veramente perché 35 minuti di euro è una cifra abnorme per una scommessa per un giocatore che tra l'altro non è stato mai un capocaminiere quest'anno non saprei dirti in un campionato dove peggio di proprio francese vengono cani e forci cioè per carità eh ha sfornato fior di cannonieri che hanno fatto passare nel calcio questo lo premesso e... che vediamo però 35 minuti di euro per questa stessa ragazza mi trovò una cifra veramente propostitata e allora io ho immaginato nel mio solito diverso parallelo non lo sapete che io vi percorso diverso parallelo e mi immagino una trattativa con le laurenti e gli altri guardate lo paghiamo 15 però se ti chiedono quanto l'abbiamo pagato dicete che l'abbiamo pagato 35 minuti la finiscono le problematiche di giocatori e stiamo a porto da te per cui a fare una cifra completamente cioè continuiamo a una gestione sbagliata una gestione amatoriale di una società professionistiche è che 35 milioni di euro è pazzesca come se potevamo riprenderci davanti ma a quel punto sarebbe stato molto più logico prendere Ibrahimovic che nel primo weekend se non sbaglio di di passaggio al Manchester ha fatto a... sta finanziando l'acquisto di Pogba Ibrahimovic solo con le maglie si ma... ragazzi ma solo di dire con l'unica delle magliette questo se l'ho ripagato Ibrahimovic infatti e poi avete visto che cosa ha fatto l'altra vice di è stato molto fortunoso tutto quello che volevo ma questo è uno che il campionato italiano avrebbe fatto comunque ancora oggi la differenza senza alcun dubbio se noi ci prefacciamo la Champions e il campionato con Cagliatini a quel tempo io presumo andrà via perché dopo averlo visto ieri sera almeno avevo sentito ha visto i ragazzi per come ha giocato l'intera penso che tutti ha un'epoca per avere un lato almeno mia me lo auguro a questo punto questo ovviamente è una brutta cosa degli agliatini contoso grintoso ho saputo che voglio attaccare il mondo e beh d'altronde poi se ti preferiscono anche Emilic cercano ancora un attaccante non so Francesco pure che cosa ne pensa ma effettivamente facciamo una sorta di toto attaccante il vostro preferito ecco sognando un attimino perché poi l'abbiamo proposto in tutte le salse anche sulla pagina dell'amico Diego dal Napoli Soccer ai tempi nostri l'abbiamo proposto nell'immaginario collettivo quello che potrebbe riportare un po' di entusiasmo Cavani è una cosa molto complessa però Francesco quale sarebbe il tuo non dico top player ma qualcuno che ci si avvicini allora parlando magari di favore personale ecco nel senso comunque giocatori che incontrano la mia stima io parlavo ieri Riccardi era in cima alla lista per un fatto tecnico c'è un giocatore che ha fisico ha potenza è giovane ha già fatto il capocannoniere poi c'era il mobile e il mobile è un altro caso sinceramente che a me imbarazza cioè il mobile che si dice alla Lazio per 9 milioni e tra l'altro hanno ancora pagati perché c'è un obbligo non è capito e il Napoli che ancora sta cercando un attaccante è una cosa senza alcun senso e poi ci sono ci sono tanti attaccanti su una ipotetica vista se vogliamo giocare a Football Manager e io sono per Hernandez del Bayern Leverkusen che è un giocatore che mi fece schiorare un un fanta mondiale con la gazzetta perché lo aveva acquistato e segno a tre gol l'aveva acquistato un classico un credito e segno a tre gol al mondiale del 2010 ed era giovane col Messico e da allora lo lo aduro e credo che sia giocatore con venti video che tu andi a casa però stiamo parlando di giocatori che incontrano il mio favore personale certo ovviamente però forse Francesco non so se sei d'accordo rispetto ad altri rispetto ad altri nomi poi tra l'altro questo sarebbe un nome nuovo e sarebbe anche un nome forse ecco rispetto ai cardi sicuramente con un costo credo inferiore ecco cioè non è è fantasia sì ma fino a un certo punto è fantasia ma il problema è che io non dubito che chiunque di noi potesse sedersi per dieci minuti sull'archivagnani non di giuntoli perchè purtroppo il giuntoli non decide niente questo l'abbiamo capito è vero dei primi della città i diritti di immagine ma qua stiamo parlando di un come dire di un mercato che offre tanto magari offre tanto a prezzi anche alti ma stiamo comunque parlando proprio il caso di il caso immobile ci fa capire come la società non si sia molto bene perchè il mobile lo contare a casa con due libri il mobile non è scarso il mobile è un grande attaccante è dimostrato tanto sia o più che nazionale io credo un buon culo con il dorsico contro l'arsenal e si fece a metà attacco è un giocatore che ha questa esperienza anche internazionale magari non si è trovato bene perchè non parla una parola del disco in Germania però è un grande attaccante dopo il video di euro non sono niente non sono niente e poi in Italia comunque ha fatto ampiamente bene soprattutto con la maglia del toro ma guarda io mi auguro veramente che la situazione i carbi possa essere un bleff anche da parte della società per nascondere il reale nome perchè a questo punto poi la situazione diventa abbastanza preoccupante se dopo i carbi non c'è nessun altro nome in lizza io vi propongo diciamo faccio una proposta ma secondo voi è talmente impossibile l'arrivo di Morata perchè le stesse cifre sia economiche al calciatore e anche di cartellino magari potrebbero essere offerte per l'attaccante spagnolo perchè per i carbi si parla di 7 milioni all'anno più metà diritti d'immagine sarebbe una cifra che si potrebbe offrire anche a Morata ma quanto lo compri? a quanto costa Morata? beh ma si arrivi ad offrire quasi 70 milioni per i carbi magari 70 milioni in Real Madrid non so se te nota ma potrebbe essere anche un'offerta che potrebbe far vacillare il Real Madrid questo non lo so però ma guardate io sono molto pessimista cioè allora il unico inizio che mi sarebbe proponere per un acquisto per un acquisto di lì da minire è il fatto che la maglia numero 9 non sia ancora occupata e questo è un segnale questo insomma mi fa pensare però voi dovete pensare anche un'altra cosa che la rosa dei nomi non è poi così ampia come si potrebbe immaginare tra quelli che non vogliono venire tra quelli che non vogliono venire c'è anche una lista di personaggi che non sarebbero indizi a parte c'è tutta una serie di attaccanti o meglio di tipologia di attaccanti che sali non vorrebbero per certe caratteristiche per certi modi infatti sali non vorrebbero quindi la rosa alla fine non è neanche così ampia come si potrebbe immaginare ma si ne espringe a meno che Angelo il Napoli proprio trovandosi proprio alle strette alla fine non faccia un'offerta alla Fiorentina per Kalinic magari inserendo Gabbiatini perché poi l'Inter con l'acquisto di Candreva ora non lo so se poi avrebbe la forza economica di spendere altri soldi anche per Gabbiatini da solo ha fatto un'offerta per Gabbiatini a maggior ragione quindi niente da fare però poi io voglio capire una cosa visto l'Inter è una squadra che sta in Guayaka un rosso di bilancio spaventoso più di tonne c'è avuto 40 milioni euro non mi ricordo bene ma c'è un rosso di bilancio che è spaventoso allora dove sono le cose? o con l'arrivo di questi nuovi soldi c'è stata una ricavitalizzazione e allora è un conto ma altrimenti questi come fanno a fare il mercato? se non sbaglio hanno avuto pure una segnalazione da due sono già stati richiamati da due ma come fanno a fare il mercato? è una bella domanda è un altro particolare che mi scugge non vorrei dire di sì ma l'Inter ha ancora quel buco di bilancio grosso è una ricavitalizzazione da parte dei nuovi soci che sono entrati in società e ci hanno messo soldi nuovi la notizia io invece credo che sia la vendita diciamo di gioielli che potrebbe fare il milano gioielli proprio per quanto si dice diciamo più vecchie cantine che gioielli eh infatti perché perchè 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 essendo saltato d'accordo con i cinesi erano una giocoforta delle vende io avrei detto vista la situazione avrei detto che è molto probabile sarebbe stato anche l'acquisto di pacca però non credo che che Sardi sia un nome gradito da allenatore eh beh poi fra l'altro non è neanche giovanissimo in tal senso e quindi e per quanto mi riguarda io back non lo prenderei e a proposito di attaccanti Angelo perdonami se ti interrompo così bruscamente voglio sapere anche Francesco che cosa ne pensa di di tutto ciò e nel calderone io ci butto anche Karim Benzema ah mi sembra mi sembra mi sembra mi sembra qualche qualche settimana fa proprio in una puntata in una puntata sull'europeo dissi che comunque si avrei preferito cioè avrei preferito molto apprezzato il fatto che ci fosse stato un passaggio di Guain al Bayern con Lewandowski al Real Madrid e Benzema spero di poterci un po' di giro di punta ecco questo però è il problema adesso è un altro nel senso che siamo alle stritte ormai non c'è niente da fare l'acqua alla cura ce l'abbiamo e quindi come dice Magno e purtroppo però non è un nome gradito affari questo lo sappiamo abbastanza come una notizia certa lo possiamo far passare come una notizia certa l'unico nome che abbatta perché Milan e condizioni è abbastanza piuttosto se sono stato anche l'ultimo diciamo l'ultimo con un sinistro ma che non se ne faccia nulla l'Inter sicuramente ci sarà stata una di capitalizzazione perché altrimenti non si spiga altrimenti dobbiamo accusare qualcuno quindi non fa non fa rispettare le regole ci deve essere per forza un muso giallo che è arrivato e ha ammesso dei soldi perché altrimenti non si spiga e quindi con questi soldi che è comprato che aveva ci farà del nuovo acquistare e guardate che secondo me qui si prenderanno anche più barbusa prenderanno anche l'abinol e faranno un mercato per diventare la seconda forza Italia e questa è una mia paura purtroppo perché comunque nel momento in cui arrivano persone con grandi nodi grandi quantità in denaro da spendere e devi anche accettare il fatto che abbiamo potenza economica molto maggiore dell'abinol che possono riprevedere un po' diventare come è successo per tante altre squadre delle potenze europee però francesco scusami se ti interrompo ecco rispetto al Napoli l'inter rispetto a Napoli e Roma ha una certezza in meno l'allenatore questo potrebbe essere un freno ma magari restarsi a vita mancini non lo so io lo reputo incompetente è una persona che non sa far giocare i giocatori che lui ha scelto e questa è una cosa che un allenatore ma confrontiamola con Sardi Sardi sceglie di puntare su quel giocatore in tutto anno però poi li fa rendere e Mancini ha chiesto Shaqiri ha chiesto Fodovski Shaqiri sembra il cognato di quello che abbiamo visto Andai e Panaco poi va via dall'Inter va allo Sturk e fa dei boom si può arrivare all'Europeo e segna un po' di rovesciata da Fugliaria ed è diventato un'altra volta un campione questo è utile per la responsabilità della natura non far rendere i giocatori che egli stesso ha chiesto è valese quindi Mancini ha chiesto a l'Inter per me fin quando ci sarà Mancini non ci sarà un problema io ne faccio una questione economica infatti nel momento in cui tu hai 300 milioni da spendere sul mercato 200 milioni da spendere sul mercato Mancini non te ne può far giocare 1, 2, 3 ma magari un altro rende e magari quell'altro che rende è un Gaby Gull che Arbic va a 30 punti in campionato le va anche il posto ai Garbi e l'Inter arriva al secondo posto in classifica questo è il ragionamento questo lo vedremo lo scopriremo solo solo vivendo il prossimo campionato ragazzi prima di salutarvi e ringraziarvi un'ultima curiosità da parte di Diego che sicuramente appunto ha una domanda per voi sì, una facciata entrambi però io non scarterei il nome di Benzema anche perché se il Real decidesse di tenersi Morata a quel punto poi uno è di troppo quindi il nome di Benzema forse è da tenere in considerazione almeno credo io non credo penso che dovessero avvicinare Benzema a questo punto sparirebbero una cifra talmente alta che sarebbe insopportabile Angelo? Angelo? Francesco tu ci sei? sì ci sono cerchiamo di recuperare Angelo tu ci sei ancora? no Angelo cerchiamo di recuperarlo quindi va bene domanda a questo punto risponde Francesco sì credo che comunque a questo punto nella disperazione più totale non ci possiamo aspettare il peggio ma anche un colpo a sorpresa perché a questo punto credo che saranno attaccati i telefoni con i vari procuratori i vari dirigenti e cercheranno di arrivare a una conclusione giocandosi perfetto abbiamo recuperato anche il collegamento con Angelo faccio terminare un attimo a Francesco Angelo scusami e abbi pazienza e poi riattacchiamo con la domanda precedente vai Francesco adesso nel momento in cui comunque ci si gioca tutto per tutto credo che il punto di occhi per lui o della venti si contatteranno un po' chiunque e probabilmente contatteranno anche comunque un ingaggio alla portata del Napolino ad adesso che abbiamo visto adesso credo che è una cosa che non ci sarà io credo che invece alla fine Sarri si comincerà di bacca e credo che sia questa la sarà più semplice per tutti del Milano e del Napoli soprattutto per cui non piacere il Milano e questa è una vada di ruote purtroppo è così perché adesso il Napoli questo è stato un mercato in cui è fatta una posvalenza e si è fatta una posvalenza per fare a dire altre società ed è questa la più amara verità considerato anche il fatto di Milik tra l'altro volevo dire una cosa ci sono due c'è chi ha detto no ma quelli sono 33 più 2 no no ma quelli sono 34 più 1 a che senso ha a parlare di un secondo anche 30 troppo per Milik a quel punto tu hai agito l'Ajax è un giocatore che è un incognito pazzisca anche se ha segnato tanto ma vedendo comunque le immagini dei polli sono niente di eccezionale questo alla fine forterà il Napoli comunque a puntare sull'ultima spiaggia e l'ultima spiaggia dove non abbia nome Bacca e Sarri però deve convincere quindi Bacca Milik per il dopo Dwayne ma guarda io sinceramente spero non sia così anche perché comunque ragazzi il campionato qui incumbe qui fra 20 giorni si parte cioè il Napoli non ha più tempo da perdere il Napoli deve darsi veramente una sbrigata ad acquistare questo benedetto attaccante non solo a completare anche la squadra necessita anche ancora di due centrocampisti un portiere e un esterno perché qui ancora oggi sento dire che forse si punterà su Maggio e la cosa mi lascia un po' perplesso sinceramente scusa l'ho stato sicuro un po' troppo nella ben nota logica dello Sparagnamme con Marim ecco andiamo avanti con Maris io penso che questo sia uno dei peggiori calciopercato del Napoli da 10 anni a questa parte io penso che veramente qua e come quest'anno ci siamo trovati in una situazione abbiamo perso di nuovo Angelo non è in un'ottima posizione abbiamo perso secondo me è colpa di De Laurentiis che lo sta sabotando si ecco Angelo noi stavamo scherzando che secondo me era De Laurentiis che ti poteva sabotare mi stanno sabotando si si ma sicuramente mi stanno sabotando questo è uno dei peggiori mercati dell'era De Laurentiis è dettato dal fatto che manca una programmazione e ripeto noi del napolegno è da gennaio da quando il Napoli era primo in classifica che diciamo va benissimo così ma dobbiamo iniziare a programmare e già parlavamo di programmazione nel corso del mercato invernale quando sarebbero stati unici quei due barra tre innesti validi che ci avrebbero permesso di quantomeno di lottare con la Juve fino alla fine e di non rischiare addirittura il secondo posto invece continuiamo con questa situazione superficiale con questa situazione veramente da direttanti e saremo purtroppo costretti come dice anche Francesco a accontentarci tra virgolette sia noi che è Sarri perché è un nome che ve lo possiamo garantire sia io che Francesco per notizia che abbiamo che non è gradito all'allenatore saremo costretti a prenderci pacca anche perché è un giocatore che già conosce la Serie A perché altrimenti ci troveremo a dover fare Champions e Serie A il campionato italiano che è un campionato particolare deve avere già una certa esperienza con due giocatori che del nostro campionato non avrebbero idea invece il pacca bene o male l'anno scorso il suo l'ha fatto il campionato lo conosce quindi sarebbe già pronto perché non ci dimentichiamo che ci sono 19 giorni si va in campo e noi ci siamo fatti il ritiro con i giovani fagioli delle promesse mancate tipo Dumitru ma non solo ma tutti quelli che ancora dobbiamo smaltire mi dispiace per i termini che uso perché si tratta comunque di esseri umani che si tratta comunque di calciatori però comunque anche questo a tutta la serie di calciatori che ci troviamo a dover smaltire nel corso di ogni calcio mercato è sempre frutto di una cattiva programmazione di un quadro tecnico non soddisfacente perché nessuna squadra tutte le squadre di vertice programmano non di mese in mese ma programmano l'anno prima per l'anno dopo e noi invece anche quest'anno ci troviamo tutta la sfilza di gente da dover vendere non sappiamo chi acquistare e soprattutto ci troviamo il portafogli pieno e tanta gente e chi ci dovrebbe vendere i giocatori che è al corrente di questa situazione quindi alza il prezzo a più non posso anche perché giustamente a livello europeo comunque quando andiamo a comprare considerato il Napoli una squadra rivale cioè una squadra un'avversaria da non rinforzare o comunque da danneggiare in qualche modo e invece fino a dieci giorni fa noi ancora avevamo in testa l'idea di De Laurentiis che diceva che la Juve non avrebbe mai acquistato i guaita perché se no sarebbe diventata ve lo ricordatevelo? certo sì anche dell'asteroide famose certo perché altrimenti sarebbe stata un'operazione antipatica nel calcio mercato nel calcio in generale non ci sono simpatici antipatiche certo ma che non esiste antipatiche simpatiche esiste uno che vuole una cosa e la porta a termine come la Juve purtroppo esiste una maggior ragione con le società professionistiche dei traguardi da dover raggiungere soprattutto degli obiettivi a divento societario da dover raggiungere perché qui non è che giochiamo con la squadra dell'oratorio che non passa il campionato vince il campionato e ci vediamo l'anno prossimo qui sono soldi che si perdono e sono pure tanti soprattutto per squadre che sono votate in borsa sono cifre importanti sono voglio dire sono questi aspetti tecnici che possono apparire puramente tecnici hanno in realtà grossi riscolti anche finanziari e certo e la Roma quando non andava bene il titolo in borsa i risparmiatori hanno perso quello che hanno perso e non poco e non poco e quindi c'è il lavoro per fortuna non è colato in borsa sicuriamoci però voglio dire le maggiori società europee sono tutti in realtà hanno tutti i patrimoni hanno tutte proprietà che sono grossi sono impedi finanziari sono sono multinazionali ecco e quindi è gente che programma qualsiasi cosa programma l'acquisto di Ibrahimovic programma il colore delle film ma voi scusate proprio un piccolo inciso no non ti preoccupare avete visto voi la presentazione di Guain non so dove io ho visto la differenza tra la presentazione di Guain a Napoli e la presentazione di Guain alla Juventus allora si tratta c'è un abisso che noi diamo oggi viviamo nella società della comunicazione nell'era della comunicazione e la comunicazione si fa anche con la comunicazione soprattutto con la comunicazione visiva allora guardate le fotografie della presentazione di Guain a Napoli e guardate le fotografie della presentazione di Guain a Torino c'è una differenza a vista che ha anche la cifra delle due società e questo è vero vedi un Guain in giacca e cravatta alla Juve magari un Guain in maglietta rosa con De Laurentiis che sorride questa è la differenza ma voi non ricordate la presentazione di Hiller Hiller con la maschera di Ion è una cosa guardate di una tristezza la risata di Francesco dice davvero tutto in tal senso veramente guardate ricordi terribili di una tristezza inutile e purtroppo Hiller ha pagato anche le conseguenze di quella presentazione perché fu presentato in pompa magna come il grande centrocampista e poi i suoi quattro anni non sono stati diciamo all'altezza di quello che i tifosi si aspettavano ma la cosa ancora più paradossale è che De Laurentiis è il coraggio di dire è deciso se prendere Vidal o Hiller ma alla fine ho scelto il meglio Hiller ecco e si sono visti i risultati purtroppo per noi allora purtroppo noi paghiamo e lo ripeto allora quando si è parlato voi avete mai sentito parlare Agnelli in questa in questa telenovela no su Iguain no chi ha parlato Marotta noi abbiamo un Marotta nel calcio Napoli no io ci l'avremmo no allora io vi posso anche dire e lo so benissimo anche Francesco che quel povero Cristo che dovrebbe fare il Marotta a Napoli è una persona che non viene neanche messa nelle condizioni di fatto di lavorare certo di lavorare certo io mi immaginavo questa persona come o una persona che è consapevole che stava lì a fare insomma poi i parafugni e così invece è una persona che mi hanno raccontato essere molto preparata di grandissima attività competenza anche che purtroppo alla fine deve ammettere la propria impotenza davanti a scelte che magari a volte non condivide neanche o che comunque deve condividere per forza eh infatti ma purtroppo fin quando ci sarà De Laurentiis che vuole fare il padre padrone o il burattinaio chiamiamolo così sicuramente il Napoli continuerà ad avere diciamo tra virgolette una cattiva gestione e si ritroverà magari dei calciatori in rosa poi con il difficile fatto di doverli può piazzare in futuro vedi De Guzman, Dumitru e tanti altri insomma ma loro questo problema adesso ce l'hanno anche con Gazzarini perché non sanno cioè e De Laurentiis ragazzo non sente neanche la fiducia della società nella stessa società infatti per nulla perché loro non sanno che fare ce lo vendiamo adesso a poco e se poi dopo oppure se non c'è un prezzo se poi dopo questo sta anche l'anno prossimo completamente e ci ritroviamo un'altra volta sul gruppone e noi sappiamo come ed è un problema non da poco effettivamente in tal senso ehm Angelo e Francesco prima di salutarvi un'ultima un'ultima cosa ehm appunto il campionato è prossimo al all'inizio appunto prima di noi comincerà il tanto amato campionato francese ehm di Angelo e anche un altro campionato che ora non mi ricordo mi pare la Premier non vorrei sbagliarmi forse quello scozzese che è ancora meglio della mia ma sai che non sapevo che non esistesse il campionato scozzese lo hai messo tu in mezzo in questo preciso istante comunque no a parte il campionato scozzese è come il campionato della della Wisp cioè il passo tecnico è come un campionato ah di Wisp quando avete mai partecipato ehm non ho avuto diciamo la fortuna diciamo in tal senso eh 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 sì sono rappresentative di scapoli ammogliati ah 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 allora no brevemente quindi col Pescara la faccio breve eh siete ottimisti nonostante il mercato si vince facile no proiettiamoci a quel 21 eh agosto guarda allora col Pescara Francesco prima e Angelo poi succederà la stessa cosa dell'anno scorso però Sarri non ha avuto il tempo di formare e di trasformare una squadra come vuole lo dico per l'esperienza personale come dicevo già e come sa anche Angelo eh vengo dall'esperienza assolutamente quindi ho visto eh da vicino il suo lavoro eh soprattutto nella preparazione le prime partite andranno male le prime partite andranno male le prime partite andranno male perché il Napoli di Sarri e soprattutto il gioco di Sarri e la preparazione di Sarri fanno sì che il gioco di abito al primo partito di campionato eh eh esausti perché la preparazione di Sarri qui c'è quest'anno c'è ancora un'altra differenza e quei giocatori che non hanno fatto la preparazione non sono quelli che andranno in campo o meglio non sono tutti quelli che andranno in campo mancano dei titolari mancano comunque dei dei peggi importanti e quindi io sono convinto che le prime giornate andranno più o meno come è andato l'anno sulla falsa riga dell'anno perché è la storia di Sarri che lo dice esatto come gli hanno passato appunto Angelo tu lo pensi allo stesso modo? Purtroppo sì perché poi Sarri uno che gioca fa molta antitattica fa anche cioè la preparazione maniacale sui calci piazzati e tutto il resto eh purtroppo andranno in campo persone giocatori che non hanno fatto hanno fatto hanno fatto progetti ci stanno metto con i pallini con i pallini con i pallini con i pallini e poi chi ha gatti e vieni eh insomma su 22 eh il petto una vicina insomma saranno poi quelli che andranno in campo insomma saranno poi con l'ossatura del Napoli ecco la rocca che formerà la rosa del Napoli e neanche sappiamo che sono i titolari quindi oltremmo un altro anche che mentre l'anno scorso alla fine poi voi da buon anno ormai io però dico a Inna voi la preparazione di giardo l'abbiamo in gravata proprio contro le due ma la sorta è stata in quella partita contro il quest'anno invece cambia anche il clima perché eh c'è un filmaggio voi direi già detto quando mai si è andato che c'è stato il suo primaco dei negativi nei confronti della squadra infatti infatti non solo ma la cosa che mi era è che ci sono anche tanti costumi infortunati scusate si infatti da quanto ho capito oltre a Tonelli che non si capisce che c'ha che c'ha che c'ha su Tonelli Tonelli, Reina si più o meno sono soltanto quelli credo me ne sfoga qualcun altro anche i giaccherini è è infortunato cioè non è manco mai capitato la storia del centro del Napoli e tutta questa serie di infortuni all'inizio del campionato che bloccavano quindi io veramente noi ci stiamo frusciando che stiamo facendo le macunde ti prego Angelo speriamo di no potrebbe anche darsi che magari il Napoli in vista della Champions abbia fatto una preparazione diversa perché devo dirti la verità Angelo io ieri ho visto la partita e mi è sembrato di vedere un Napoli già abbastanza in palla va beh che il Nizza fosse una squadra di serie B però ho visto delle ottime cose sinceramente bisogna ripartire da lì eh una squadra che comunque è già abbastanza collaudata gioca a memoria è chiaro mancano molti pezzi però ho visto un buon Napoli poi lasciamo stare che le amichevole estive lascia contano poco contano poco però la squadra mi è sembrata già abbastanza pimpante a parte alcuni elementi insomma tipo Cabellini eh eh diciamo che la amichevole ostica la parola a Trevigo Madrid con il crotone dai chiudiamola chiudiamola da questo punto di vista speriamo 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 che la prossima settimana avremo un nome nuovo su cui discutere che sia il famoso colpo che tutti quanti stiamo potrebbe essere a Zenischi in attesa dell'attaccante eh speriamo speriamo bene ragazzi io vi ringrazio per questa bella chiacchierata duplice in compagnia vostra ci ritroviamo nelle prossime occasioni ciao Angelo ciao Francesco alla prossima ciao ciao ragazzi ciao ragazzi grazie ciao 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 ciao